Tra il 23 dicembre 2015 e il 6 gennaio 2016 la polizia ferroviaria Nissena ha eseguito 67 controlli su treni viaggiatori, sottoposto 92 bagagli sempre a controllo, ha impiegato in stazione 12 pattuglie per svolgere quotidiani servizi di pattugliamento lungo le linee ferroviarie controllando e identificando sospetti. Sono stati così incrementati i servizi di sorveglianza con più pattuglie per garantire maggiore sicurezza ai viaggiatori in tutto il periodo delle festività natalizie in un momento in cui il flusso ferroviario è in aumento.